Stavattina mi ha chiamato Zia Titina, la mia adorata zia, e ha detto «oglio, ma che è questo fatto che andiamo a questa Coppa America?» Sto sentendo di parlare sempre della Coppa America, la Coppa America, ma noi non siamo sempre stata da sotto, l'America. Allora ho detto «Zia, ma non è come intendi tu, la Coppa America non significa che noi stiamo a Coppa America, è la Coppa America, America's Cup, non so se mi spiego, hanno passato i pacchetti più a largo, per certi barchi che uno saluta nato, fanno i corsi e mettono la margellina». Il sindaco ha fatto mettere gli scogli, ha messo dei massi enormi per allargare, per costruire nuove cose. Allora la zia ha pensato, ha detto «Ma come ha messo i scogli nuovi?» E che il popolo burpo che stava sotto i scogli, a casa muoveva, ma che ha fatto? Bello e buono si ha visto tutti questi scogli nuovi aperti la casa. E che è visto che aveva un nuovo burpo aperto la casa. La città si dice «Ma che fai pensando? Tutti questi problemi mettono sul burpo?» All'interno mi sono trovato a prendere il burpo perché lì era giusto fare il pecozzo e chiaramente quando lui fa il pecozzo, i giovani stanno, ci mettono il burpo. E pensavo che questo paolo burpo con tutte queste scogli e la coppa, che vedi fai? Cioè, sarà morto. Cioè, com'è? E pure i burpo mi hanno fanno i campani. E ma chi ha fatto l'America a scalpo? Ci ha fatto la Coppa America. Dio ha detto «Ma a me questo fatto non mi piace». Cioè, ma com'è? Cioè, com'è questo fatto? Mi sembra sempre stato sotto a me. Ma io non lo capisco. Ma sai che altro che mi sto facendo vecchio? Ma perché hanno fatto tutte queste cose? Ma perché uno non poteva? Chi si mangia fa che mi ha chiuso? Io si mangia tutto lì. Ecco, noi per esempio, mi volevi a mangiare una taralla e una birra e una margellina. Non ci potete dire. E il tuo genere, mi diceva «No, non lo posso portare perché hanno chiuso via la taraccia». Scusate, ma uno che aveva una certa età, che si può mangiare una taralla e una margellina, no? E cosa si può mangiare? Una taralla e una margellina. Una birra e una margellina. uno si fermavano poco vicino al mare, sentivano un po' l'alito del vento, no, l'alito del vento, del mare, che l'alito del genere mi puzza. Bene, che non lo sentivano. Però io stavo dicendo sostanzialmente questo. Io sono canziato, perché vengono varie cose. Non mi fai le camminate. Non posso lasciare la marina in tuo garage per prendere un po' l'aria di mare. Dice «l'America scappa». Ma che cazzo mi ha fatto a me? E st'America scappa? Ma non dov'è essere la coppa a me? Mi sembra che mi stai passando sotto a me. E ora faccio un quartano. È chiaro? Brrrr!